facciamo, diamo incarico a Mediacom per capire un po' com'è l'andamento della gestione dei crediti delle nostre aziende. Prego. Grazie, buongiorno a tutti e grazie ancora a ringraziamenti doverosi per andare a parlo di fine per sentireci per l'iniziativa e soprattutto per i complimenti per consolidarsi di un appuntamento di un forfante che quest'anno più del mai in qualche modo a dar segnale in qualche modo di essere un punto di riferimento del settore.